Leggi il giornale, dice America, cosa dice? USA, sì ha una tassa minima globale sulle multinazionali. Quindi sì ha una tassa minima, minima che poi può essere alzata, vediamo. Con gli Stati Uniti da ricostruire e il gigantesco piano di investimenti da fidanziare, la segretaria del tesoro americano mette nel mirino il dumping fiscale e chiede una tassa minima globale su multinazionali. Cos'è il dumping fiscale? In italiano si può tradurre scaricabarie dalle imposte. Cioè cosa fanno? Per esempio Musk, questo qui che è uno dei più ricchi del mondo adesso, lui che era in California e tanti altri multinazionali insieme a lui, siccome le tassi in California, che la California adesso è uno Stato americano a regime socialista, tassano i ricchi per dare ai poveri, ricchi, attenzione, classe media, ok? I ricchi ricchi li lasciano stare per dare ai poveri, quindi la California si sta sprofondando, tutti i poveri senza lavoro non cercano più lavoro perché prendono soldi gratis e quando i soldi mancano vanno a rubare, quindi esplosione anche di crimine. Per adesso che è successo in California? Hanno alzato le tasse un pochino, non tanto, anche le multinazionali, perché sono socialisti loro, vogliono nazionalizzare tutto alla fine della storia. E allora Musk insieme ad altri si è spostato dalla California al Texas, che è uno degli stati più cristiani. E le tasse lì non sono tasse socialiste, sono tasse basse. Si è spostato là. Allora questo qui, Janet, cosa dice? Dice dobbiamo evitare il dumping fiscale. Dumping in inglese vuol dire scaricamento, scaricare, dump. Ok, scarichi. Quindi cioè scaricano le tasse trasferendo la sede in una nazione, le tasse sono più basse. Furbi, furbacchioni. Fanno soldi in una nazione, però si basa in un'altra. Cioè un po' la Fiat ha fatto così, questo ha fatto la Fiat. Si è spostati in Olanda. Va bene, infatti i trattori in New Holland sono Fiat. Quindi si è spostati in Olanda, le tasse le danno tutte agli olandesi e il governo italiano, che ha sempre finanziato la Fiat, ha fatto la figura del Pirva. Quindi ha pagato la Fiat, dice grazie, poveri fessi. Io mi sposto in Olanda. E siccome i politici ne sono affiatato, perché le tasche ben zavorrate di bustarelle, timbrate e agnelli, e lui dice, no, no, fin quando io c'ho la bustarella, voi fate quello che volete. Ma cosa c'è da far passare una legge e dire, no, se tu i soldi li fai in Italia, tu paghi le tasse in Italia. La base te la puoi fare nel Congo, ma qui i soldi che entrano qua li paghi qua. E questo comprendo anche i media, che loro fanno, non so quanti miliardi guadagnano al giorno questi qua, e pagano meno tasse di un gelataio che vende motarelli all'angolo. Va bene. Tu media, Google, Googleino, chi cricchi, stai facendo soldi in Italia, tu paghi in Italia. Quanto hai fatto di tasse? Io ho fatto poca roba, un trilione di miliardi. Ah, va bene. Paghi le tasse come le paghi lì in bianchino. E quanto paghi lì in bianchino? 50%. Quindi il tuo trilione di miliardi taglia il trilione e farlo diventare quello che rimane. Ma ti pare che faranno questo? No. Fin quando i politici stanno alle tasche piene di bustarelle, campo a cavallo. Insomma, questa è la situazione. Va bene. Insomma, la notizia è che adesso arrivando il governo socialista in vista del comunismo, Biden e compagnia bella, diciamo brutta, cosa stanno facendo? Stanno alzando le tasse agli straricchi. E questa è una nota stonata. E perché? Sai, Soros diceva, alzateci le tasse. Perché hanno capito che fra poco li portano la ghigliottina. Quando c'è la rivoluzione, che succederà? Però è una cosa giusta? Ma è giustissima. Tassarli questi. Allora perché è una nota stonata, dicevi? È una nota stonata perché fino ad adesso li hanno sostenuti le multinazionali, grazie alle bustarelle. Adesso, capito? C'è il mostro di Frank Stein. Ha costruito questo mostro e si è rivoltato quando il dottore l'ha ucciso. Che adesso, fino ad adesso, usano gli altri come cagnolini al guinzaglio. E hanno cercato di usare gli islamici, stanno usando benissimo le gerarchie finte cristiane nelle chiese. Però adesso i burattini si ribellano. Adesso vi facciamo pagare tassi anche a voi. A noi? Ma le bustarelle e nieve le facciamo pagare lo stesso. Noi alla fine vogliamo comunismo. Quindi questo sta succedendo. Credo che sia l'inizio della fine. Credo che è la fine legale di Babilonia. Cioè, nel senso che legalmente gli fanno pagare le tasse. E poi arriverà la fine militare che sarà Babilonia, Apocalisse 17, sarà distrutta in una sola ora. Adesso però cominciano ad alzargli le tasse. A Babilonia non gli piace questo. Che a parte che dicono alzateci le tasse, sono cretinate perché si riferiscono alle quattro tasse agli occhi di tutti. Ma le ricchezze imboscate alle Bahamas, eccetera, qui non se ne parla neanche. Allora, quindi è una contraddizione. Paradossale contraddizione. Inizia proprio da dove si trova la base infernale di Babilonia. Dove si trova? In America. In America. Cioè, l'America, per sapere dove va al mondo, è guardare l'America. Va bene? L'America è un po' la testa del diavolo. Per sapere dove va, guarda l'America. Ma più che la testa, diciamo, lei siede sul dragone. Questa donna con un calice pieno di sangue ubriaca. Va bene? E lo spirito del materialismo. Baal si chiamava in il testamento. Mammona nel Vangelo. Babilonia nell'Apocalisse. materialismo oggi. È sempre lo stesso spirito. Questa donna non è una signora, una signora. No, questa qui è uno spirito satanico del materialismo. Che era rappresentato prima da Roma, poi dalla religione che Roma l'ha seguita. E poi è andato via via salendo. Carlo Magno, la Francia, l'Ingliterra e ora l'America. È uno spirito. Quindi quando dice Babilonia sarà bruciata, sta parlando dello spirito. Del diavolo che la controlla. Non è che il diavolo viene bruciato. Però la sua opera di questa torre grandiosa di materialismo viene distrutta in America. Quindi, diciamo, come dicevo, il diavolo è nel business di usa e getta. Lui ha usato Babilonia America e anche attraverso i secoli prima dell'America. Quindi il diavolo, vediamo, trasporta Babilonia sulla sua groppa. Andiamo a Apocalisse 17. E questo ha trasportato Babilonia finché gli ha fatto comodo. Verso 3. Apocalisse 17, 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vide una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nome di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna. Ecco, sappiamo che le sette teste sono le sette imperie mondiali, no? Dall'Egitto fino a Roma, qui, erano sei. Poi arriverà l'anticristo, non è ancora arrivato, sarà la settima testa. E poi Apocalisse 20, c'è l'Apocalisse 17, c'è l'ottavo, che sappiamo dopo il millennio. Ok. Ora, il nemico sa bene che presto, non avrei più bisogno della prostituta a Babilonia per ingannare e stregare il mondo con gli idoli di materialismo, e allora sarà USA e getta. Cioè USA, Stati Uniti d'America, USA saranno gettati. USA, sì. Vai a Apocalisse 17, 16 e 17, per favore. Apocalisse 17, 16 e 17 Gli dieci corna che hai viste, e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno che è di dare, di comune accordo, il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute. Cosa sta dicendo qui? Che mangeranno le sue carni, le dieci corna, le dieci nazioni, che già si sono unite. Ci sono dieci nazioni in Europa che si sono unite nel 1994, poi verso il 2011 così si sono un po' sfaldate, però volevano fare un esercito comune anche, però poi il problema qui, il problema là, il tempo del diavolo non era pronto, allora hanno rallentato, però già si sono unite dieci nazioni che sono dalla Grecia all'Italia, all'Olanda, all'Austria, uscendo dall'Inghilterra, all'Austria e verso il posto, sono sempre dieci. E la profezia sarà adempita, quindi le dieci corna, le dieci nazioni che formeranno il settimo impero dell'anticristo, che poi sarà spalleggiato da Magogha, da una parte, dalla Cina, dall'altra, dall'Islanda, dall'altra, e poi prenderanno il mondo. Questi qua bruceranno la prostituta, la odieranno, la odieranno, vedi come oggi l'Iran, altre nazioni odiano, la chiamano la grande Satana, l'America, già la odiano, no? E dopo quest'odio si spangerà anche in Europa, che è già cominciato, perché? Perché è pieno di islamici, quindi hanno già influenzato l'Europa, mettersi conto di Israele a favore, fuori dell'Islam, e poi adesso arriverà anche la Russia, con un po' di calma. Quindi odieranno la prostituta, la spoglieranno, la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni, la consumeranno col fuoco, però, verso 17, è Dio però che ha messo nel loro cuore di eseguire il suo disegno, che è di dare, di comune accordo, il loro regno, i dieci regni, i dieci nazioni, alla bestia, all'anticristo, fino a che la parola di Dio siano adiempite, e tutto quello che succede non devi guardare i giornali, devi guardare la Bibbia, che i giornali, è come una talpa, è una talpa che va in giro, tastoni, tastoni, attenzione, ultime notizie, e c'è stato un terremoto, avanti, oh, attenzione, è scoppiata una guerra, cioè, i giornali ti dicono, non sono notizie, è un diario del passato remoto, capito? è come un cimitero, dice, qui sono sempre lì, c'è cento, ci sono cento tombe, non è una notizia, ti reso conto di quello che succede, se invece vuoi vivere nel futuro, se invece vuoi sapere, non quello che è successo, ma quello che succederà, e se vuoi sapere quello che devi fare, devi leggere la Bibbia, capito? E se non la capisci, trovati qualcuno che te la spiega, in piccolo, io sono uno di questi, in piccolo, vabbè, ci saranno gente meglio di me, quindi comunque, studiatevi bene queste cose, così sarete un passo avanti del diavolo, invece adesso le chiese sono un passo indietro del diavolo, perché loro non interessano l'Apocalisse, i libri di Daniele, che ce ne facciamo noi? Abbiamo la nostra chiesa perfetta, abbiamo il nostro edificio perfetto, abbiamo il nostro pastore, che vuole vedere come grida, come suda quando predica, ragazzi, studiate la Bibbia, e studiate specialmente quella parte, è un terzo della Bibbia, che è volutamente ignorato, dalle chiese, perché non la capiscono, sono le profezie, Dio ha scritto un terzo della Bibbia, è pieno di profezie, e queste le ignorano, non voglio dire che sono ignoranti, perché non mi piace dirlo, è offensivo, quindi non lo dico, va bene, però non potendo andare avanti a ignorare, così un terzo della Bibbia, sfido che non sapete dove andate, e poi criticano a me, che dico a tutti quanti, chi può esca, dal Titanic a Europa, si trovi un posto nel terzo mondo, dove volete, l'America, America da quando si è separato da Dio, negli ultimi anni, e si è separato ufficialmente, ha iniziato delle tappe, va bene, verso il suo suicidio nazionale, va bene, l'America, e si sta costruendo, lo sgabbello dove salire, la corda, se l'è messa al collo, questo è abbandonato Dio, con l'aborto, tutto quanto, è pronta, che arriva l'anticristi, e non ha pedato lo sgabbello, e lei gli penzoloni l'America, va bene, e dal punto di vista del diavolo, va bene, vediamo un po' il suo punto di vista, com'è che il diavolo vede la situazione, cioè, le multinazionali, che sono il fondamento di Babilonia America, com'è che il diavolo adesso vede le multinazionali, le vede come un peso, le multinazionali sono un peso per tutto il mondo, multinazionali sono una tale monnezza, che neanche il diavolo li può sopportare più, quando verrà l'anticristo, capito, lui sarà contro le multinazionali, cioè risusciterà il bolshevismo, il comunismo, il leninismo, lo stalinismo, l'eguaglianza per tutti, funzionerà, certo che funzionerà, è funzionato in Cina, gli metterà un po' di capitalismo qua e là, come ha fatto la Cina, e sarà il regno perfetto, utopico, che il mondo ha sognato, tutti avranno qualcosa da mangiare, qualcosa da sgranocchiare, non tutti, perché dopo il programma di depopolamento che è già in corso, quelli che rimarranno, insomma, vediamo quanti rimangono, con tutte queste bellissime cure che stanno forzando tutti quanti, non voglio dire di più, va bene, quindi chi ha capito, chi vuol capire, capisce, perché c'è, c'è una grossa censura in giro per il mondo, quindi ormai dobbiamo parlare in parabole, e chi capisce, capisca, chi non capisca, vada da Gesù, dello Spirito Santo, va bene, che, che il Signore gli spiega, Giacomo 1,5, cosa dice? E chi non ha saggezza, chiede a Dio, chiede a tutti, senza rinfacciare, capito, si chiude una saggezza, guarda da Dio, va bene, quindi le multinazionali sono diventate un peso, anche per il diavolo, che neanche, anche lui si è stancato di trasportare, sta prostituta sulle sue spalle, l'America, è talmente, è più prostituta del diavolo stesso, che il diavolo stesso la scarica adesso, hai capito? la chiesa fedele è la sposa di Cristo, l'America si è sposata col diavolo, va bene, e il diavolo cosa fa? Usa e getta. Allora, andiamo a Pocalezza 13, presto, presto non ci sarà più bisogno, il materialismo che c'è adesso nel mondo, innanzitutto americano, e tutti gli altri, che l'America ha contaminato, va bene, presto non servirà più, fino adesso il diavolo ha guidato il mondo, tramite il materialismo capitalista, moltissimo, principalmente americano ultimamente, va bene, ma al diavolo presto non gli servirà più, di ingannare il mondo con materialismo, questo è che si libererà dall'America, dalla Babilonia, come appunto c'è l'Apocalezza 13 lì, veniamo avvertiti, è verso 17-18, nessuno poteva... Nessuno poteva comprare o vendere, se non portava al marchio. Va bene, e il suo numero cos'è del marchio? E il suo numero è 666. Capito? Il diavolo non avrà più bisogno dell'America, di New York, di Manhattan, di Rockefeller, di tutta questa gente qua. Non ha più bisogno, perché? Perché ci sarà il marchio. Attualmente il diavolo controlla il mondo, attraverso i soldi, se non hai soldi, crepa, a Sommaro. Vuoi soldi? Vai a... Fai il bravo schiavetto e ti daranno... I signori multinazionali ti daranno qualche briciola, non troppo, perché sai, in digestione fa male. Una briciola alla volta. Va bene? Ma questo, presto, non sarà più necessario. Infatti i soldi li stanno togliendo, è il contante, è tutto quanto. Capito? perché adesso è sufficiente, il microchip nella tessera, vai nel banco dei mati, sai qual è il banco dei mati? No. Banco mat. Ah, ok. Capito? Il banco dei pazzi. Vai lì, e il microchip ti dice, va bene, puoi prendere quattro lire e toglieti di torno. Ma presto ti diranno il suo conto è stato chiuso perché lei è antipatico all'anticristo. Capite? E come faccio? Ci sono soldi miei. Silenzio. Secondo le regole nostre, lei invece non prende un fico secco. E come faccio? Muove di fame, si arrangi, si attacchi al Trump. Non ci sono neanche Trump. Come faccio a prendere Trump e che serve il biglietto? Si butti da un ponte, quello è gratis. Capito? Cioè, insomma, non so se sono così, ma l'idea è quella. Insomma, ecco. Quindi, Apocalisse 13, 17, 18, nessuno potrà comprare o vendere, sono chi portava il marchio sul numero 666. Attualmente già stanno addestrando il mondo a quello. Capito? Questo andare davanti ai negozi che ti fanno lo scanner, ti prendono il numerino sulla fronte. E cos'è? Perché ti controllano la temperatura? Perché ti stanno stanno addestrando il mondo che presto dovranno essere controllati col marchio. Capito? ho letto un articolo che i soldati americani non riuscivano nella prima guerra mondiale o nella seconda, non mi ricordo più, non erano in grado di uccidere, non sono abituati, non è mica una cosa semplice di ammazzare uno, perché c'è una divisa diversa, un po' disgraziato come te. E non li uccidevo. E allora hanno addestrato i soldati in America prima di mandarli a combattere in Europa, a fare, a infilzare i sacchi di segatura, infilzare questa immagine del tedesco odiato, infilzarlo, andavano, sono andati in guerra e ucciderlo senza problemi. E allora, c'è un lavaggio del cervello, un trattamento psicologico subliminale se vuoi, va bene. E quindi lo scopo di controllare la temperatura quando vai in un cesso o in centro, quando vai a comprare quattro pistacchi, quando vai a comprare un ruolo di guardia igienica, ti devono controllare la temperatura. E un addestramento che fra poco ci sarà il microchip dentro nella zucca, nelle zucchine e nei cocomeri ci sarà un microchip, però la gente è già addestrata psicologicamente. Cosa c'è di male? Immagina poi quando viene in microchip dire, bene, chi prende il microchip può togliersi la mascherina. Perché? Perché l'ho detto il pezzo grosso bla bla bla, il signore LA Anticristo dice che quello, perché il microchip ha un sistema nuovo che è arrivato da Google che chi prende il microchip basta mascherina. tutti i colori ne faranno. Capito? E loro devono andare alla Bibbia. La Bibbia dice no, Apocalisse 14,9 che riceve il macchio ma adesso sulla fronte sarà tormentato per sempre nella presenza dell'agnello. La presenza dell'agnello? Ma come se Papa dice che lui ama tutti e tutti si salvano e tutte le strade portano al Duomo di Milano? Cioè in paradiso. Come vai? E l'ha detto Papa. chi gli ha detto lui? Ma la Paciamama gli ha detto lui ha studiato dei Gesuiti se non lo capisce lui esatto guarda un cristiano dell'asilo può insegnare a questo qua va bene comunque c'è il suo dovere di sfasciare la Chiesa Cattolica e a buon punto ormai è mezza sfasciata Dio benedica Viganò che lì con un baccalano alla sua mano e gliele sbatte in faccia notte e giorno e il Papa zitto e mosca Angela tu mi fai segnale di fumo ho due messaggi voglio leggerti Angela l'indiana quando Angela fa segnale di fumo vuol dire che all'orizzonte lei ha intravisto vedo i fratelli grazie